ciao ragazzi e rieccoci tornati in questo nuovo video con lo sfondo di un cavallo mezzo perché devi dire queste cose insomma un po di ragazzi ma un po di rispetto per un per piacere ma sono tutti esauriti ma che è sto cavallo con sto coso qua cos'è poi guarda ti sta ridendo tra l'altro ma sembra un uscito dal circo dai ma insomma un po di rispetto per un gioco che comunque ha fatto la storia nel 2017 con 200 milioni di giocatori online quindi per te 200 milioni di esauriti italiani americani inglesi e non ragazzi ragazze chiunque sta guardando sto video ma mi spiegate che vuol dire quando fanno quei balletti del cavolo che stanno tutti non lo so tutti drogati di qualcosa allora i balletti semplicemente sono degli skin che si possono sbloccare sì ma fossero decenni voglio dire quello che fa il balletto della scimmia per dire cioè ragazzi vi spiego una cosa sta cosa l'abbiamo trovata al Primark di Arese no ci stava una felpa con uno che ballava con la scena di un ballo non so che cacchio sia io credo che sia il ballo che ha fatto anche Antoine Griezmann nella finale di Coppa del Mondo con quel gesto sopra le due dita in inglese o in americano vuol dire loser quindi perdente cioè che cacchio vuol dire esatto e Antoine Griezmann proprio fa quel simbolo quando lui segna come per indicare l'altra scuola tu sei un perdente e si mette a fare il balletto di Fortnite perché quel ballo è proprio inerente quindi mi stai dicendo che Antoine Griezmann è uno degli attaccanti più forti del mondo esaurito esaurito ma guarda allora se devo dire la verità quelle lì sono fatte le plastiche stanno lì tutto il tempo prendono polvere ma il gioco come è fatto di alluminio ma il gioco ogni volta che tu fai una nuova partita che inizia nel mondo ogni 5-10 secondi c'è una partita vi può sembrare strano ma è pazzesco perché pensate ogni 100 ci sono 100 giocatori online che giocano solo a quella battaglia reale che è la principale modalità di Fortnite pensate quanti giocatori sono ogni 5 secondi collegati solo per giocare a Fortnite è pazzesco perché non ci hanno nient'altro da fare non lo so si vede che vogliono questo cavallino qua che appunto è l'oggetto più raro di Fortnite poveri noi che appunto ti dà tantissimo materiale per poter costruire i tuoi fortini appunto fortini appunto si chiama Fortnite perché ti permette di costruire quelle grandi costruzioni dove tu ti puoi riparare dagli attacchi nemici o dai lanciarazzi o dai lanciarate ma sono tutte le api che fanno le... come si chiama? le api che costruiscono l'alveare amido si più o meno può essere riferita così questa è la maglia abbiamo appunto il lama con quattro colori diversi superi un cavallo il lama è vero il giallo, giallorosso, rosa, blu e viola perché mi devi spiegare perché l'hanno fatto così? questo non lo so però chi l'ha fatto cioè questo allora tu mi devi spiegare questo qua è il simbolo principale giusto? beh non è che è l'oggetto più raro che ti trovi in una partita che è anche difficile da trovare ah ma tu mi pare che qualcuno l'hai trovato si 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 se giochi in partite singole lo trovi ti dà tutti gli spawn possibili cioè poi mi spiegate una cosa quei loro quindi i personaggi che hanno gli zaini con gli animali attaccati dietro si c'è quello col cane io però ovviamente come ben sapete non mi interessano a me le skin o cose del genere io gioco semplicemente per divertirmi però ci sono quelle fissate oppure adesso perché io ho le cuffie attaccate ma se no tu ti sentiresti quando metti il deltaplano che ti butti quando ti fa aprire il deltaplano io ho quello con gli occhi perché è l'unica skin che ho potuto sbloccare se no sono quelli che quando tu apri ti esce il corvo che fa il verso del corvo si insomma non è normale pensa poi c'è quello col treno addirittura volante vabbè treno volante si insomma così un po' su c'è di tutto e di più ti trovi pure animali volanti cose strane c'è un mondo surreale proprio si anche se poi dall'altro la mappa sembra piccolissima in verità ragazzi è gigantesca che poi è piena di passaggi segreti e piena di bug dovete vedere lui adesso che è espertissimo sa fare tutto i primi tempi non sa fare neanche cascate la prima partita tra l'altro che mi sembra sia dentro il trailer ufficiale del canale pensate che non mi ero neanche cioè mi ero buttato dal pullman si era buttata madonna come lo dici malamente ma ero rimasto lì in aria e alla prima parte l'avevo fatta con Pierluigi Pierluigi era andato giù io ero ancora su in cima e facciamo qua cosa dovevo fare che non capivo niente arrivato giù non prendevo neanche le armi quindi proprio non sapevo niente volare va bene insomma io spero che questo video vi sia piaciuto vabbè ah l'abbiamo pagata 8 euro quindi l'hai pagata 8 euro 8 euro da Palma si non ho trovato le magliette di Call of Duty Black Ops 4 purtroppo però si vede perché appunto hanno levato quella collezione e hanno messo questa tutta la collezione che poi non c'era granché tra l'altro come anche lì da Primark è possibile trovare non so se è ancora possibile ma c'erano i Funko Pop di Fortnite o comunque al GameStop li troverete sicuramente esatto oh poveri noi poveri ma perché la Funko ha fatto ste robe perché è un gioco che ha sfondato letteralmente dal fatto che era gratis ed è tutto era gratis però appunto il gioco guadagna tramite queste magliette e il merchandising il merchandising esatto ma e i V-Bucks che sono costosi c'è anche quell'orso rosa mamma qui è tantissimo top leader in una squadra si ogni tanto si vede anche nelle scene di caricamento del gioco è tantissimo qualcosa cioè io chiamo il rosa chiamo gli orti panda io ricordo tempo dietro avevo fatto una live su Fortnite allora con gli iscritti con qualche iscritto che aveva giocato con me e c'aveva l'orsetto rosa era Giorgio Abruzzone all'epoca che non si sa dove è finita questa iscritta comunque vabbè e aveva questo orsetto rosa mi ricordo mamma mia tra l'altro però però guarda che no se tu lo guardi dalla partita non è brutto tipo ma cioè quasi i peluche no i peluche come si chiama i Funko Pop che hanno fatto oppure si forse più inquietante come Funko mentre nella partita è più carino vabbè vabbè bene ragazzi lasciate like al video se vi è piaciuto e se vi piace questa maglia se anche voi magari avete comprato qualche prodotto di Fortnite sicuramente qualche maglia scrivetemelo sotto nei commenti e vi ricordo di aggiungermi su PS4 MarcoCeresa11 se volete giocare con me su Fortnite ma non solo anche con gli iscritti Black Ops 4 ci fa 19 o altri giochi ecco e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao